Ciao, bentornati su Parlare Digitale, io sono Tommaso e oggi vi parlerò di quello che penso essere uno dei libri più importanti per chiunque si voglia approcciare al mondo del marketing al giorno d'oggi. È un libro del 1981, quindi questo libro ha 40 anni, ma ancora oggi ha tantissimi concetti validi ed importanti da imparare e su cui riflettere. Il libro è questo qui, Positioning, forse lo avrete letto nel titolo, forse l'avete anche visto al contrario, ma non vi preoccupate, non è importante adesso. In descrizione chiaramente trovate anche il link a questo libro, scritto da Al Ries e Jack Trout e è un libro che, come dicevo prima, ancora oggi è importantissimo per chiunque voglia vendere un prodotto sia al consumatore finale, in particolare a un consumatore finale, ma anche ad aziende, visto che poi anche qui sta cambiando molto il modo di acquisto per aziende, ma di questo parleremo in un altro video. Jack Trout e Al Ries ci spiegano intanto che cos'è, secondo loro, il Positioning, quindi vi do una breve definizione che danno anche loro. Il Positioning è la posizione occupata dal nostro brand o dal nostro prodotto all'interno della mente del consumatore. Questo vuol dire che noi, come Parlare Digitale, riusciamo a farci identificare da un potenziale cliente, da uno spettatore, da un iscritto, come cosa X, Y e Z. Quello è il nostro positioning, fondamentalmente. Perché è importante avere un positioning ben definito, studiarlo, migliorarlo, lavorarci. Perché, come ci dicevano già 40 anni fa, al giorno d'oggi la mente del consumatore è sempre più piena, è sempre più occupata, è sempre più bombardata da nuovi messaggi pubblicitari e noi abbiamo uno spazio limitato per ricordarci di tutti questi prodotti, offerte, sconti, brand. E sappiamo bene che è molto più facile vendere un prodotto riconosciuto dal potenziale cliente, un prodotto top of mind, un prodotto che ha una buona reputazione, piuttosto che non vendere un prodotto a freddo. Quindi voi immaginatevi di camminare dentro un supermercato, andare a scegliere una marca di detersivi e sappiamo benissimo che ci sono prodotti che magari sono molto simili tra di loro ma alcuni brand, quelli più appunto famosi, riescono a vendere a un prezzo 2, 3, 4 volte superiore magari a volte solo perché sono già presenti all'interno della mente del consumatore, hanno una percezione molto di alta qualità, molto buona e quindi possono permetterselo, quindi hanno margini più alti, quindi fanno più soldi, quindi riescono a spendere ancora di più i marketing e continuare a rafforzare la loro posizione. Bene, questo concetto che è molto facile da capire per marche di cui magari ci interessiamo poco, per prodotti di cui ci interessiamo poco, come possono essere i detersivi, visto che per questi prodotti riusciamo a ricordare un massimo di 2, 3 marchi differenti, è valido per qualsiasi tipo di brand. Anche quando si parla di prodotti più di nicchia, come possono essere i microfoni, anche persone interessate, come me per esempio, ho fatto molta ricerca prima di decidere che microfono acquistare, anche persone interessate riescono a ricordare un massimo di 6, 7 marchi. Quindi poi dopo la nostra memoria comincia a dare problemi e quindi non riusciamo a incanalare tutte le informazioni che esistono. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tanti dei soldi che tutti i marchi spendono in pubblicità vanno sprecati, vanno sprecati perché non hanno un punto a cui ancorarsi all'interno della mente del consumatore. Quindi io oggi voglio darvi alcuni concetti principali di questo libro, alcune cose su cui riflettere e che magari possono aiutare la vostra attività imprenditoriale, la vostra azienda, insomma, qualsiasi cosa. E poi in futuro faremo altri video più dettagliati su tanti vari temi affrontati in questo libro. Sinceramente potrei anche prendere due o tre capitoli tutti insieme e fare un solo video su quello, perché sono anche temi molto densi e specifici. Quindi intanto vi raccomando assolutamente di leggerlo. Oggi parliamo di alcuni concetti base. Il primo è quello che vi ho detto, cioè la base di tutto il libro è proprio il fatto che al giorno d'oggi è molto difficile inserirsi all'interno della mente del consumatore, perché è già strapiena, e che chiunque sia in grado di stabilirsi come leader di mercato ha un vantaggio enorme. Allora partiamo dal primo consiglio che viene dato in questo libro, ed è un consiglio che viene dato a chiunque stia inseguendo un prodotto che già si è stabilito come numero uno. Loro fanno un esempio molto calzante all'interno del libro, che è legato all'industria delle macchine a noleggio. Loro fanno spesso riferimento alla realtà americana di 40 anni fa, quindi non tutti gli esempi sono facili da seguire o da conoscere. Però questo è abbastanza famoso, ed è parte dello scontro tra Hartz, che era l'azienda leader del settore per l'affitto di macchine a tempo breve, e Avis, che era la numero due. Bene, Avis per tantissimi anni ha continuato a perdere soldi di continuo, anno dopo anno, finché non hanno cominciato a brandizzarsi come numero due, in maniera attiva. Cioè a che cosa hanno fatto? Hanno capito che ormai tutti quanti percepivano Avis come un brand che era meno conosciuto, meno rispettato rispetto ad Hartz, ed hanno preso questo aspetto e ne hanno fatto fuori, ne hanno fatto crescere una campagna di marketing specifica. Questa è una campagna che è passata alla storia, perché in tre anni hanno quintuplicato le loro revenue, e poi hanno venduto l'azienda a un'altra holding, quindi hanno avuto un grandissimo successo. E che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a dire Avis è il numero due, vieni da noi perché ci impegniamo di più. Oppure vieni da Avis, che è il numero due, perché le nostre file d'attesa sono più corte. Hanno cominciato a agganciare il loro brand a quello che era il numero uno del settore, Hartz, e in questo modo hanno avuto una via più facile per entrare nella mente del consumatore. Quindi Arias e Jack Trout ci dicono che nel momento in cui noi siamo inseguitori all'interno di un'industria, non dobbiamo fare quello che molti fanno, cioè scappare dal confronto con il nostro competitor principale. Perché? Perché in realtà il competitor ci sta offrendo una sorta di scala per agganciarci a lui all'interno della mente del consumatore. Faccio un altro esempio. Nel momento in cui noi sappiamo che Coca-Cola e Pepsi sono le due aziende principali all'interno delle bibite, c'è stato un outsider che è 7up, specie negli Stati Uniti è molto conosciuto, che ha deciso di fare cosa? Di posizionarsi come di Ancola. In inglese suona ancora meglio perché Ancola è anche simile a Ancool, quindi non cool, ma semplicemente loro si sono posizionati come l'anti-cola. Hanno capito che ormai Coca-Cola e Pepsi dominavano il mercato, vendevano due su tre di tutte le bibite non alcoliche, diciamo soft drink, negli Stati Uniti e loro hanno deciso di posizionarsi all'interno della mente del consumatore posizionandosi come quelli che sono opposti alla Coca-Cola e alla Pepsi. Quindi questo sicuramente è stato un ottimo esempio di posizionamento e questo concetto, secondo consiglio, è valido anche per quando lanciamo qualcosa di nuovo. Quando noi creiamo un prodotto o un brand che si cerca di creare un mercato completamente nuovo, che chiaramente è una buona idea perché ti permette di essere top of mind senza dover scavalcare la competizione, che è una cosa molto difficile, allora la cosa da fare molto spesso è quella di cercare di capire come possiamo ad agganciarci a prodotti già esistenti per spiegare meglio cosa facciamo al nostro consumatore. Ci sono tantissimi esempi che possiamo fare, in particolare nel mondo delle start-up per un po' andava di moda fare una cosa, cioè dire la mia start-up è Uber per il gelato, la mia start-up è Airbnb per, non lo so, per i letti confiabili, che poi tra l'altro quello era Airbnb, però vabbè. Adesso è diventata un po' inflazionata come metodo di comunicazione, non vi consiglio di usarlo più perché chiaramente anche qui ci sono tante dinamiche che vanno in overlap tra di loro, però il motivo per cui questo modo di presentarsi ha spopolato dal principio è che è molto più facile spiegare cosa facciamo relazionandoci a qualcosa che il nostro interlocutore già conosce piuttosto che non cominciare a spiegare da zero alla mia app, prende il gelato, vada al gelataio, tu ordini sull'app e il gelato ti viene portato a casa. È una spiegazione abbastanza semplice, abbastanza lineare, ma è ancora più facile dire la mia app è Uber Eats per il gelato. E quindi questo è un altro concetto e possiamo pensare anche a aziende che effettivamente hanno creato un nuovo mercato, ma all'inizio si sono posizionate come in relazione ad altre realtà. Non lo so, per esempio Facebook. Facebook è un social network che ha rivoluzionato completamente il mercato, che ad oggi è in maniera indiscussa il numero uno, anche perché ha acquistato parte dei suoi competitor. E all'inizio, per chi se lo potesse ricordare, Facebook era una sorta di MySpace. Quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno capito che era difficile spiegare da zero che cosa fosse Facebook. Hanno preso il prodotto più simile, che era MySpace, e hanno cominciato a agganciarsi a quello per far sì che i consumatori si potessero approcciare in maniera più semplice, senza dover spendere troppo tempo a cercare di capire cosa fosse, perché altrimenti l'avrebbero lasciato perdere. A questo punto forse mi viene da menzionare l'ultimo aspetto che a Ries e Jack Trout menzionano proprio all'inizio del libro, e cioè il fatto che molto spesso è meglio cercare la soluzione o cercare il nostro prodotto all'interno della mente del consumatore piuttosto che all'interno della nostra mente. Mi spiego peggio. Quando noi andiamo a pensare a un prodotto che sia la soluzione per un problema X, tutti i prodotti devono risolvere un problema fondamentalmente, o un bisogno, insomma. Bene, noi abbiamo due opzioni. La prima è quella di metterci a tavolino e studiare quale può essere la soluzione migliore. È un approccio molto tecnico che a me piace perché può portare alle soluzioni migliori. Molto spesso i problemi hanno bisogno di soluzioni complesse. Ma a livello di marketing, la cosa ancora più facile da fare, e lo vediamo in politica, è quello di capire, ok, chi è il mio target customer? È la casalinga di Voghera che ha dai 45 ai 50 anni. Invece di pensare quale può essere il prodotto migliore per la casalinga di Voghera tra i 45 ai 50 anni, io vado da lei e glielo chiedo direttamente. Questo perché? Perché è molto più facile vendere un prodotto se il nostro consumatore ha un'idea di come risolvere quel problema e corrisponde alla soluzione offerta dal nostro prodotto. Appunto, l'esempio con la politica forse è il più chiaro e lampante di tutti. Al giorno d'oggi, la maggior parte dei politici, invece di, a livello di comunicazione, creare una potenziale soluzione ad un problema, non lo so, il fatto che la maggior parte delle industrie si stia decentralizzando e stia andando in altri paesi. Invece di cercare un problema alla soluzione sedendosi al tavolo con economisti e poi comunicarlo al pubblico, quello che molti fanno, e la cosa a volte purtroppo più efficace, è cercare di capire, secondo il mio potenziale lettore, qual è la soluzione a questo problema, io comunicherò quello. Ed è, appunto, purtroppo, a volte, ma un metodo molto efficace perché toglie qualsiasi tipo di barriera, qualsiasi tipo di, come dire, di protezione che chiunque può avere sul prodotto che noi stiamo vendendo o sulla politica che noi stiamo vendendo in quel caso. Quindi, io vi consiglio assolutamente di prendere questo libro, di dargli una letta e in futuro avremo sicuramente tanti altri contenuti che partono da qui e finiscono a parlare anche di altre cose. Si parla anche di come trovare il nome per il vostro brand, dell'impatto che il nome può avere. Si parla di cosa devono fare i leader del mercato per essere sicuri di mantenere quella posizione per i prossimi 5, 10, 15, 20 anni invece di poi perdere, appunto, terreno dai numeri 2 e dai numeri 3. E si parla di tantissimi altri concetti importanti. Quindi è una lettura veramente, veramente consigliata. Questo era Parlare Digitale. Noi ci vediamo presto. Come al solito, se volete vedere questi video futuri o video che ho già fatto, dovete iscrivervi. Possibilmente potete anche mettere mi piace, condividere, insomma, le solite cose che dicono tutti gli youtuber. Noi ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao, ciao! Grazie a tutti.